Nello studio del notaio Manzini, ne via Roma, per occuparci di argomenti consueti, ma per sollevare il sipario, anche sulla mostra con la quale lo studio partecipa al programma di fotografia europea. La mostra è di Maurer, se dovessimo definirla compiutamente sarebbe di Berliner, Maurer, il muro di Berlino, una mostra fotografica di Paolo Balboni. E con il notaio Manzini un primo appuntamento lo dedichiamo a queste figure, a questi dipinti che furono appunto realizzati sul muro di Berlino. Certo, il muro di Berlino venne abbattuto nel 1989, ne rimase in piedi circa un chilometro. Questo chilometro è diventato una galleria d'arte a cielo aperto, si chiama East Side Gallery, chiunque può scrivere o dipingere su questo muro. Il mio fotografo, mio perché l'ho patrocinato e ritengo di essere stata anche molto fortunata nella scelta, ogni anno si reca a fotografare piccoli particolari del muro di Berlino, a fotografare anche le crepe, i residui del tempo che ci raccontano la storia dal 1961 ad oggi. Il muro di Berlino è stato un simbolo molto negativo del secolo scorso e quindi dobbiamo non dimenticare, trasmettere anche ai giovani questo messaggio che i muri fra i popoli non sono mai costruttivi e dunque avremo la visita anche di alcune scuole per vedere questa mostra, proprio per far passare il messaggio che i muri, di cui si parla molto anche attualmente, non sono la soluzione. Un tema sul quale torneremo anche le prossime settimane, ma andiamo invece al tema del giorno, ovvero l'assegno divorzile, la sentenza della Cassazione, sicuramente un tema di grande attualità. Salutiamo con favore questa sentenza della Cassazione, recentissima, che è stata considerata un terremoto giurisprudenziale perché ha sovvertito un principio applicato dai giudici per l'assegno divorzile da oltre 30 anni. Prima, quando si determinava la misura dell'assegno divorzile, si teneva conto del tenore di vita che il coniuge, solitamente il marito, aveva consentito alla moglie durante la fase del matrimonio. Ora, la Corte di Cassazione ha sancito un principio secondo cui ciò che conta è l'autosufficienza. Quindi, sì, si può avere diritto a questo assegno divorzile, ma solo se non si è in grado di produrre redditi propri e non si ha un patrimonio a disposizione. Una sentenza che può avere ricadute anche sulle sentenze già in atto? Diciamo che, per i casi conclusi, ormai le cose sono definite quando la situazione è stata risolta in modo cosiddetto tombale. Per gli assegni di separazione e divorzili ancora in corso, ancora da determinarsi, questa sentenza è sicuramente un punto di riferimento. Ricordiamo anche che la determinazione di questi assegni avviene rebus sic stantibus, ossia, secondo le condizioni di quel momento, ed è sempre soggetta a modifica se cambiano le condizioni patrimoniali di uno dei due ex coniugi. Ecco, dottoressa, com'è stata accolta dalla vostra categoria e dagli avvocati questa sentenza? Dagli avvocati, come un nuovo punto di riferimento, e anche al passo coi tempi, perché gli altri paesi europei dove esistono i patti prematrimoniali sono già su questa linea, e cioè il matrimonio non può più essere visto come una sistemazione, come un lavoro che ti consente una rendita vitalizia. Abbiamo visto anche casi di abusi, abusi legalizzati, ma nel tempo l'ex coniuge poteva o vendicarsi verso l'altro coniuge utilizzando questo strumento patrimoniale oppure comunque continuare ad avere un tenore di vita che non era giustificato. È un problema anche culturale, il mondo è cambiato e dunque accogliamo, anche come donna, mi fa molto piacere una sentenza del genere, perché noi donne dobbiamo puntare su noi stessi. Il concetto della sistemazione col matrimonio è alquanto antiquato.